Amici di Sorriso TV, buon inizio settimana e bentornati con un nuovo appuntamento con Giro di Tacco. Oggi qui insieme a me ho l'onore di ospitare, anzi riospitare, una grande artista, una grande donna, una grande mamma, con noi Elena Camarrone. Ciao Elena, bentornata! Ciao Giovanni, ciao a tutti gli amici di Sorriso TV. Come state? Io sto bene, dai. Noi stiamo bene, non vediamo l'ora, come dire, di poter, anzi io non vedevo l'ora di poter fare questa intervista per poter conoscerti meglio, anche, come dire, farti un sacco di domande. Tu come stai innanzitutto? Faenza, giusto? Mi stai parlando da Faenza, giusto? Io sto a Faenza e guarda, sto facendo questo collegamento dal balcone di casa mia, perché purtroppo sì, siamo ancora un po' alluvionatini e quindi non so perché, ultimamente dentro casa mia non prende tanto bene internet. Però guarda, oggi qui a Faenza è una giornata abbastanza mite, quindi anche solo con un maglione non si sta mica male, sai, fuori. Ah, meno male, perché invece negli ultimi giorni qui a Castelfranco Veneto fa freddino, poi vabbè, arriva il sole che riscalda tutto e va bene così, però effettivamente è arrivato un po' più il freddo. Come si preannuncia Elena a livello lavorativo questa parte finale dell'anno? Beh, guarda, di serate ne ho diverse, anzi ne approfitto già per fare un invito agli amici di Castelfranco Veneto, scusa, però Castelfranco Veneto non è neanche tanto distante. Questo sabato io sarò all'Odissea di Spresiano, quindi amici veneti, mi raccomando, è l'invito sabato 2 dicembre con la cammarone all'Odissea, mi raccomando. Però insomma, di serate ce ne sono, Giovanni, c'è un bel fermento anche per quanto riguarda l'estate 2024, non mi posso lamentare, dai, non mi posso lamentare veramente. Quindi comunque le persone hanno ancora voglia di ballare, di divertirsi, com'è cambiato il pubblico in questi anni? Ma il pubblico in questi anni fondamentalmente secondo me non è cambiato, forse qualcuno dice di sì, ma io sono più dell'idea che io e qualche altro collega c'eravamo forse un po' dimenticati a forza di stare a casa di certe abitudini dei nostri ballerini. Io non lo vedo fondamentalmente cambiato più di tanto, ti devo dire la verità, ho ritrovato tanti sorrisi, ne sto scoprendo di nuovi, tu pensa che ad oggi nonostante una vita che faccio questo lavoro ormai, c'è sempre qualcuno che mi dice Elena, è la prima volta che vengo a vederti, quindi ne ho ritrovati, purtroppo ne ho anche persi, dopo il covid ne abbiamo anche persi, però insomma ne sto ritrovando anche di nuovi. Bene, questo è un bene, ascolta, ma c'è un genere che ti piace, tu balli, tu balli, sai ballare? Guarda, io da piccolina ho fatto danza, mi piace tanto la danza, ma ovviamente non sono una ballerina, la facevo perché io sono sempre stata dell'idea che una cantante sul palco debba sapersi muovere anche, cioè non mi sono mai piaciute quelle cantanti che sono, come si direbbe al mio paese, uno stocca fisso, ok? E quindi la facevo più che altro per statermi muovere, per essere un po' sciolta sul palco. Comunque sì, ogni tanto anche nelle mie serate scendo, mi ballo una mazzurchina, mi ballo una cumbia, se mi invitano a ballare, comunque sì, mi piace ballare. E c'è un genere che prediligi personalmente tu? No, no, come la musica, la musica è bella tutta, il ballo mi piace tutto. Io vado più a canzoni, sai Giovanni, cioè nel senso, poi puoi essere dalla più tradizionale alla più moderna del mondo. Però mi deve colpire il testo, la melodia, quello di chi parla. Ok, quindi ci deve essere, come dire, un po' un amore a prima vista, no? Anche per la canzone che tu ascolta quando la vai a proporre poi al pubblico. Ascolta, ma ti ricordi la prima volta, quindi andiamo indietro nel tempo, che ti sei esibita su un palcoscenico? Ah, beh, la prima volta che mi sono esibita sul palcoscenico ero veramente piccolissima. Era sicuramente una recita, perché comunque fin da ragazzina mi si notava questa verbo musicale, questa cosa che ero molto intonata. Poi le recitine all'asilo mi davano sempre le parti principali dove si cantava, no? E quindi, dai, la prima volta sul palco può riguardare anche una recita all'asilo? Ah, certo, assolutamente. Ma te la palco anche quello è lì, dai. Però sì, fin da piccolina proprio ho sentito questo richiamo verso la musica, ma proprio da subito. Prendevo dentro casa le matite, le bottigliette d'acqua ed erano un microfono. Ma fin da subito proprio, fin da subito io ho capito che volevo fare la cantante. Cioè, non ce n'era... sono sempre stata con le idee chiare da questo punto di vista. Eh, vedi, quindi è proprio, come dire, fin da piccola hai sentito questa vicinanza al mondo della musica che poi ti ha portato, ecco, su grandi parchi, ti ha portato, come dire, a girare ad essere un sacco amata dal pubblico. Facciamo una pausa musicale, Elena. Ci guardiamo a proposito di Sole, ne parlavamo poc'anzi, Torna il Sole. Lascio a te le parole per presentare questo bel brano al nostro pubblico che già conoscono molto bene. Torna il Sole è una canzone stupenda. È ovvio che le mie canzoni per me sono tutte un po' come figli, da quelle che ho scritto io anche a quelle che non ho scritto io. Torna il Sole, per esempio, mi è stata scritta da Maurizio Festuccia ed è un brano bellissimo. Cioè, Torna il Sole, proprio nella nostra anima, dopo un periodo buio, è proprio un inno alla positività. A non perdere mai la speranza, perché poi il sole prima o poi torna sempre, ecco. A voi l'ascolto, è una canzone veramente che invista anche un po' del Natale. È un inno proprio alla speranza. E allora, io non aggiungo altro. Ci guardiamo questo bel video sempre qui su Sorriso TV. Torna il Sole, Elena Camarone, con noi. E allora, ti ridò il bentornato, Elena. Si stava parlando dei tuoi capelli fuori onda, perché mi dicevi, cavoli, che boccoli, sono resistite a un weekend di fuoco. Allora, da qui mi sorge una domanda. Ma quanto è importante proprio la preparazione? Quanta preparazione c'è dietro ad una serata? Che non è solo arrivare, cantare, andare via, cioè smontare, montare le prove. La preparazione dell'immagine, comunque immagine. Ma ti dirò, io in sé, Giovanni, sono una donna molto sbrigativa, sai. Nel senso, i capelli, vabbè, vado dalla parrucchiera durante la settimana. Quindi i capelli pressocchietti arrivo che ce li ho già fatti. E a truccare, sì, quanto ci metto, ma neanche poi così tanto. No, sono abbastanza sbrigativa, anche quando devo uscire, no? Hai visto, ci sono comunque una donna di sé, no? Ci tiene proprio a tirarsi e a uscire. Io sono molto sbrigativa quando devo uscire. Ora, sinceramente non mi ricordo prima dei figli come ero, eh. Però penso di essere stata sempre abbastanza easy nella preparazione. Sempre molto smart, ecco. Non ricordo di averci mai messo, anche prima di essere mamma, tanto tempo nella preparazione. Ascolta, sogniamo, sogniamo insieme. C'è un'artista della musica leggera con cui, internazionale, nazionale, decidi tu con cui ti piacerebbe creare qualcosa, duettare? Guarda, io ne ho diverse che mi piacciono di cantanti, sia italiane che internazionali. Che ne so, una mi piace per la vocalità, un'altra mi può piacere per gli spettacoli che crea, un'altra per la grinta. Tipo, secondo me, nella nostra Italia, a livello di grinta, Emma Marrone è, secondo me, molto valida. A livello vocale, sicuramente, andiamo su Giorgia. Come canzoni commerciali, radiofoniche, che avrei voluto lanciare, e forse andiamo più sulla Laura Pausini. Andando all'estero, per esempio, come dire, ce ne sono diverse. La vocalità di Whitney Houston, gli spettacoli che può creare una Beyoncé. Insomma, ne ho diverse che mi piacciono. Chi per una cosa, chi per un'altra. Non ne ho più una, ecco, dici, io vorrei essere questa. No, questo no. Me ne piacciono veramente diverse. Per motivi più disparati, ma me ne piacciono diverse. E quindi, chissà che in un futuro non possa nascere, chissà. Il mondo della musica è infinito, quindi una bella collaborazione. Sì, eh. Se lo immagini la Camarone con Beyoncé, ma ti piace proprio sognare. Sognare è bello perché, no, è infinito. Quindi, il mondo della musica, no, tra artisti, poi alla fine, se tutti comunque, no, se sei sulla stessa linea di pensiero, si può poi creare anche qualcosa di molto bello insieme, lasciando stare poi il genere o comunque anche, come dire, l'importanza a livello artistico. Ascolta, c'è un album tra quelli che hai lanciato, a cui sei molto più legata degli altri, un brano a cui sei proprio legata, che senti tu? Guarda, allora, adesso, a parte il fatto che deve uscire tra gennaio e febbraio, il mio nuovo album. Mi sentite, ragazzi? Sì, ti sentiamo anche se sei bloccata. Vedevo un attimo che si era fermata l'immagine. Sì, sì, ma adesso ha ripreso, ha ripreso. Ah, ok, no, perché vedevo che si era un attimo bloccata. Allora, a parte che a gennaio barra febbraio uscirà il mio prossimo album. Se proprio vogliamo dirlo, il primo album proprio di tutti i inediti ufficiale, sotto il nome Elena Camarone, e non più steli in basi. Un album che sicuramente mi è rimasto nel cuore, che ha segnato, che ha voluto dire tanto per me, sicuramente il volume 48 di Castellina Vasi. Quello dove c'è Secretamente, quello dove c'è Volevo, che è una Ligali che mi è andato benissimo. Secondo me quello lì è stato l'album e proprio non che gli album prima fossero brutti, però secondo me da lì si è notato proprio lo stacco, la crescita, sia come cantante che come donna. Ci sono state canzoni più mature, più... Insomma, quell'album lì per me è stato veramente molto importante. Ok, quindi sei legata a questo. Ascolta, mi hai anticipato, c'è un album che sta uscendo, quindi dai, dacci qualche anticipazione. Cosa troveremo all'interno di questo album? Beh, tante belle canzoni, nuove, qualcuna già la conoscete, tipo Saremo Tutte Star, che abbiamo mandato prima nel collegamento telefonico, ne far parte. Come ne farà parte, per esempio, C'era di Maggio che manderemo dopo. Qualcuna già al nostro pubblico ha avuto qualche anteprima, ma poi ci sono tante altre belle canzoni. Adesso, vabbè, tempo al tempo, ve le presenterò tutte. Anche, per esempio, la canzone che mi vede, che è uscita poco tempo fa, non so se facciamo il tempo a mandarlo, il video con Pietro, anche quella lì ne farà parte. Quindi qualcosa abbiamo già svelato ai nostri amici e altro lo ascolteranno una volta che il CD è uscito. Quindi un 2024 l'ho già fatto pieno di novità. Sì, sì. Bene, allora ora farei una pausa musicale, tornerai ancora indietro, poi tra poco inizieremo anche a vedere tutte le novità che abbiamo già presentato qui su Sorriso TV. Va bene. Con Caliente, Elena Camarone, lascia a te, come sempre, le parole per innaltarle al nostro pubblico. Caliente è una bella combiettina fresca che non ha bisogno di tante presentazioni. A me piace spaziare, nel senso, spezzo molto le cose che lancio, passo da una cosa, a caso mai più popolare, è una cosa fresca. Questa è una combiettina, questa è una combiettina molto fresca. Guardatevela, dai. Ora il clima non è tanto caliente, spero che questa canzone lo renda nelle vostre case. Ascolta, dobbiamo invece fare per ora un saluto speciale. Sono tanti i saluti che, prima di andare in musica, stanno arrivando, però salutiamo l'amica Anna Galletti che ti manda un messaggio, ti manda un saluto. E allora la ringraziamo, ringraziamo le edizioni musicali Galetti Boston per la collaborazione. Certo, sempre a vita Anna e Sandra che mi hanno visto crescere. Dai tempi di Renzo Tomassini, ormai io penso, mi hanno proprio visto da ragazzina. I miei percorsi, sia come cantante che come donna, praticamente li hanno vissuti tutti. Quindi ovviamente le salutiamo con un bacione grandissimo. Quindi è come fossi in famiglia, anzi lo possiamo proprio dire, ormai è una grande famiglia. Bene, ringraziamo ancora Anna Galletti, un bacione, e noi andiamo con caliente Elena Camarone. E siamo tornati con noi oggi, Elena Camarone, Elena bentornata, seconda parte insieme. Che bello, che bello poterti avere qua con noi. Ascolta, ti leggo un po' di messaggi perché stanno arrivando un sacco di saluti, allora io te li riporto fedelmente, fedelmente, ok? Allora, buongiorno, vorrei innanzitutto salutare Elena Camarone, ciao Giovanni, un caro saluto a te, la meravigliosa Elena, un forte abbraccio, a presto Daniele, l'amico Daniele Spolonna. Ciao Daniele, ciao. E poi un saluto alla numero uno, Camarone, un abbraccio dai pupattoli. Oh, ciao Isa, ciao Isabella, Isabella, Loredana, ed Aldo. E poi un saluto dal Fans Club Umbria, stiamo lavorando, 8 dicembre, per fare pienone, un bacio. Chi è Nadia, Silvia, Giovanni, chi è? Aspetta che guardiamo perché non si è firmata, Giovanni, ci ha scritto Giovanni. Giovanni, ciao Giovanni. E poi fai complimenti a Elena, stupenda donna, con due occhi che brillano come diamanti, meravigliosa voce, un saluto Dennis Damagnago, e poi lui mi chiedeva proprio di farti due nomi maschile e due femminile, con cui due terresti, ma l'abbiamo detto prima, quindi abbiamo già risposto, come dire, in maniera indiretta a questa domanda. Continuo con i messaggi, buongiorno a tutti voi, ma tu Giovanni, lo sai che nel cielo di maggio, torna il sole, quando c'è la camarrone, e per sempre così, e riparto da qui, e se la colazione con successo vogliamo far, noi tutti, che è Daniele, sì, è l'amico Daniele Poluzzi, che lui ci manda sempre i messaggi. Daniele, Daniele, una poesia con le mie canzoni al giorno, questa settimana ti stai proprio, stai sfrenato questa settimana, con tutte queste tv che ho fatto, è fantastico, perché io mi chiedo sempre come faccia, è molto bravo, perché non è semplice accostare i titoli, ad una poesia con un senso compiuto. Un saluto a Enera Camarrone, da parte di Teresa della Costa Azzurra, tanti bei ricordi al dancing, la luna di Santo Stefano al mare, manchi tantissimo, un abbraccio da mentone. Ciao Teresa, un bacione grandissimo. E poi un saluto da Marisa Lavanga e Angelo, dalla Toscana a Elena. Ciao Marisa, ciao Marisa, ciao Angelo, sì, ora è un po' che non li vedo questi due amici, speriamo di vederci presto. E poi, ciao Imperatrice, sei grandissima, ti aspetto il 15 dicembre, per riabbracciarti, e passare una grandissima serata, a farci gli auguri, un bacione da Mariuccia, Ezio, da Borgo Vercelli. Sti Firpo, ciao Firpo, ciao ragazzi, un bacione grandissimo. E poi salutiamo chi ci scrive, un grande saluto per una fantastica artista, Zietti Emiliani, complimenti per la trasmissione. Si firmano così. Qua se le stavendi, ad Auzzano, Magaroli. Mamma mia, ma quante persone che ti vogliono bene, quante persone, ascolta, ma... Beh, anche io voglio bene a loro, eh. Certo, infatti per quello che... ho preso, ho preso uno per uno i messaggi, e te li ho come dire letti, perché giustamente, eh, sarebbe stato riduttivo, solo accennarteli. Ascolta, ti piacerebbe suonare uno strumento musicale, eh, suoni uno strumento musicale? Da piccolina ho fatto pianoforte, mi sono pentita poi di non averlo continuato, ti dico la verità. Suona uno strumento musicale, sì, mi piacerebbe. Ma c'è uno strumento particolare? Perché da piccolina ho fatto più danza, recitazione, ero più improntata verso i musical, che ne ho fatti diversi di musical, quindi ero più improntata verso quello. E lo strumento che poi non ho più finito, perché ero anche bravina, sai, ehm, poi mi è mancato di averla lasciata un po' così, questa cosa, sì. ok, ascolta, ma, eh, quindi c'è uno strumento che magari, ti piacerebbe proprio imparare, non so, la chitarra, la fisarmonia, piano forte, piano forte, comunque continuare il pianoforte, quindi riprenderlo un po' in mano. Sì. E, e in pochi, immagino perché sei anche mamma, quindi, eh, quando sei mamma, quando sei genitore, è difficile avere momenti per se stessi, nei momenti liberi, c'è un hobby che coltivi oltre alla musica, al canto? Io, eh, Giovanni non ho momenti liberi, cioè, immagino, infatti ho fatto la premessa opposta, perché, eh, allora, nei miei momenti liberi, eh, do una riassettata a casa, ehm, vado a finire di incidere l'album nuovo, vado a fare il servizio fotografico, vado, vado, cioè, comunque nei miei momenti liberi io lavoro, faccio le cose, che, mh, posso approfittare di fare, perché proprio non ho i miei bambini, diciamo di momenti liberi, veramente pochi, proprio rari, a volte mi devo proprio obbligare a prendermi dei momenti liberi. Ah, vedi, perché, giustamente, bisogna ogni tanto staccare, anche proprio per andare a resettare un po' la mente, per poter creare poi cose nuove. sì. Ascolta Elena, che rapporto hai con i ragazzi della tua orchestra? Beh, buono, buono, no, buono, buono. Vogliamo salutarvi, vogliamo nominarvi, vogliamo... non sono un capo dittatore, questo no, ho sempre avuto un buon rapporto, tant'è vero che quest'estate, quando avevamo anche un giorno libero, loro stessi hanno detto, andiamo, andiamoci con qualcosa insieme, e quindi, già che invitano il loro capo, a passare un sabato sera insieme, che casomai, non dovremmo passarlo, ora ho detto il giorno più sbagliato, che ne so, però è capitato che un, boh, non lo so, un 20 di agosto, ora ti dico una data, così, no, eravamo a casa, c'era quel giorno libero, loro comunque, anche in un periodo come quello d'agosto, che era comunque pieno di serate, hanno deciso di andare a cena insieme, capito? Quindi, è una cosa bella, secondo me, quindi direi sicuramente un buon rapporto. Ah, che bello, che bello avere questo rapporto familiare. Parliamo però adesso di un evento, di un evento a cui tu parteciperai, domenica prossima, esattamente, a Risto Teatro Mucchetti, ci sarà questo bel evento, per la prima volta in Lombardia, Radio Sorriso, col suo pranzo, e tu sarai nel cast artistico, quindi, lascio a te, Yes! le parole per fare un invito, a tutte le persone che ti seguono, perché sarà veramente una giornata fantastica. Sarà una giornata fantastica, il posto è mega stupendo, c'è Radio Sorriso TV, che cosa vogliamo di più della vita ragazzi? C'è Giovanni che già è prontissimo, vero Giovanni? Assolutamente, sono qui che non vedo l'ora. Sei carichissimo, io ti sento già, sei carico a manetta, io già ti sento. Io non vedo l'ora di essere lì, intanto di poter ritrovare tutti gli artisti, ricordo Francesca Mazzucato, Rosita e Gabriele dei Filadelfia, Raf Benzoni, Daniela Cavanna, Giancarlo della Santa Monica Band, e Elena Camarone, che ci terranno compagnia, ci faranno ballare, io ve lo ricordo, prenotate allo 0423 7367, per gli amici del Veneto, abbiamo anche un bel servizio Corriera, che vi porta direttamente al Teatro Mucchetti, in questo locale, che bello, secondo proprio delle fermate prestabilite, quindi informatevi, venite con noi, passate una bella domenica, e con noi sarà anche occasione, Elena, correggimi se sbaglio, per farci i primi auguri, no? Perché 3 dicembre, ormai poi lì, inizia il periodo delle feste, inizia il periodo degli auguri, e il periodo festivo natalizio. Inizia il periodo, Giovanni, di anche a te famiglia. Eh sì, brava, la frase, anche a te famiglia. A te piace il Natale? Tu che hai i bimbi, quindi sicuramente è un periodo particolare. Allora, negli ultimi anni, l'ho rivalutato molto, considera, io da piccolina, vengo da una famiglia di genitori divorziati, ok? I miei nonni, il Natale, cenavano, andavano a letto prestissimo. Io dovevo sempre decidere, un po' dividermi tra babbo e mamma. Quindi, diciamo che, negli anni non sono cresciuta, con un buonissimo rapporto con il Natale, ma non perché non mi piaceva come festa, perché rappresentava per me, un momento di scelta. Insomma, parliamoci chiaro, il Natale, per le famiglie, cioè, uno si immagina una famiglia unita, che festeggia il Natale, noi mi dovevo sempre invece dividere tra questi genitori. Ti dico che invece da quando sono mamma, proprio l'altro giorno, ero un... Anzi, è un attimo bloccata, però immagino che ora si riprenderà il collegamento. Intanto, io ve lo ricordo ancora, Teatro Mucchetti, domenica prossima, venite perché ci divertiamo un sacco, assolutamente, senza proprio ombra di dubbio. Chi siete? Speaker di Radio Sorriso. E intanto è tornata Elena, vedi, mentre vi parlavo è tornata. Ora, non so dove siete rimasti, però dicevo da piccolina, insomma, c'era sempre questa lotta, tra decidere se passarlo, insomma con mio padre, mia madre, era... Non lo vivevo bene. Lo vivo bene da quando sono mamma, perché vedo i miei figli, credono a Babbo Natale, hanno una luce diversa, mia figlia già sono giorni che mi chiede mamma facciamo l'albero. Da mamma lo vivo veramente molto diversamente, proprio con una magia, mi sento proprio diversa, ecco, negli ultimi anni. Che bello, che bello aver riscoperto comunque un po' il senso del Natale, anche perché, grazie ai tuoi bimbi, riesci a viverlo così. Andiamo avanti con la musica, facciamo una pausa video, e ci godiamo il video di Saremo tutte star. Lascio a te le parole per presentarlo. Ma gioca un po' sul mondo dei social, cioè, da oggi che non sei nessuno, un video ti diventa virale, diventi una star. È un po' così, un brano scherzoso, sulla non gavetta, che quasi non si fa più, ecco. Ah vabbè, tra poco ti farò una domanda, proprio rispetto a questo, intanto ci godiamo questo bel video. Saremo tutte star, Elena Camarrone, sul Sorriso TV. Saremo tutte star, Elena Camarrone, oggi ospite con noi, ultima parte di Giro di Tacco, ti porto i saluti, cara Elena, anche dell'amico Tiziano Furnaletto, che ti dice, un saluto alla meravigliosa, ciao ragazzi, sì, ciao. Lui ci fa un sacco di foto, prese proprio dalla nostra diretta, quindi grazie mille Tiziano, che sei un po' il nostro fotografo virtuale, ogni diretta lui comunque cerca di mostrarla, poi la mette su Facebook, quindi grazie mille veramente. Ascolta Elena, diamo un consiglio ad un giovane, una persona che muove i primi passi, nel mondo della musica, nel mondo della musica da ballo, che cosa ti senti di consigliare? Ma che consiglio devo dare? Il consiglio che devo dare io è, perché sai, io ho notato una cosa, che quando un ragazzino o ragazzina inizia a fare questo lavoro, e che ne so, si fa la sua prima apparizione a Sorriso TV, ma che può essere anche un'altra TV a livello nazionale o meno, certi vedono, questa cosa che io sto facendo adesso con te, lo vedono come un punto di arrivo. No, è un punto di partenza, cioè nel nostro lavoro non si è mai arrivati, ma tutti i giorni c'è sempre da imparare, da fare qualcosa. Il consiglio che ho da me è, quello di restare sicuramente con i piedi per terra e umili, è di studiare, di studiare, studiare, studiare. Io per esempio, adesso è stato un periodo che mi ero fermata con le lezioni, riprenderò le lezioni di canto, ho avuto un periodo di tre vocali a fine estate, sto ritornando, sto andando dalla logopedista, che comunque mi rimette in sesto alle corde vocali, eppure sono tanti anni che canto e faccio questo mestiere, no? Cioè alla fine, volendo io, certe cose per continuare a migliorare, sostanzialmente potrei anche farle, che me frega, nel senso, beh non male, dai, sono diventato un nome conosciuto nel mondo della musica da ballo, e invece no, è questo io il consiglio che do, perché tanti si sentono a volte arrivati con poco, e lì inizia proprio il precipizio, capito? Quando tu pensi di non dover più imparare nulla, inizia una discesa, quindi l'unico consiglio che posso dare a chi vuole, o si sta approcciando per la prima volta, al nostro mondo, ma a qualunque cosa poi, perché questa regola poi non vale solo nella musica, vale ovunque, è quello veramente di non sentirsi mai arrivati, mai. Ti faccio un'altra domanda, chi ti senti di ringraziare per essere arrivata fino a questo punto? Scusami Giovanni, non ho capito bene questa domanda, perdonami. Chi ti senti di ringraziare, c'è una persona o delle persone che vuoi ringraziare per essere arrivata dove sei arrivata fino a questo punto? In primis, in primis il mio pubblico, e poi, chi devo ringraziare, chi devo ringraziare, ma sai, io non sono stata fondamentalmente chiusata da nessuno, non ho mai avuto, non ho mai avuto raccomandazioni, non ho avuto, guarda, proprio l'altra, se incontrai in un ospitato il maestro Franco Bagutti, sai quante volte, io feci la domanda, feci la domanda per entrare nell'orchestra di Franco, feci la domanda per entrare nell'orchestra di Filadelfia, quando ancora stavo a Latina, pensa, e non mi cagarono di striscio, passami il termine, con la mia capabilità, un giorno lasciai il numero all'orchestra di Renzo Tomassini, e iniziai questo periodo in all'orchestra Umbra, in un ospitata, mi notò colui che all'epoca gestiva Castellina Pasi, mi scrisse il suo numero in una banconota, penso, in un pezzo di soldi, mi scrisse il suo numero, quindi io poi fondamentalmente devo dire grazie al mio pubblico, a me stessa, perché sinceramente, sicuramente alle mie editrici, le Galletti Boston, che hanno da sempre creduto in me, però alla fine io quello che ho fatto, l'ho sempre fatto con le mie gambe, quindi poi fondamentalmente dico grazie a me, che non ho mai mollato, anche nei momenti di bui. Ah, che bello questo messaggio. Allora, Elena, ti lascio preparare gli appuntamenti da segnalare al nostro pubblico, per venirte a vedere in live, e intanto io però ve lo ricordo, un appuntamento imperdibile, è quello di domenica prossima, giusto Elena, perché ci sarà anche Elena con noi, ci divertiremo un sacco, non ti chiedo, non ti chiedo cosa ci canterai, perché è una sorpresa, e mi voglio godere anch'io la sorpresa. No, 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 anche perché non ho ancora deciso Giovanni, quindi non mi chiedere, io voglio ricordare, solo per gli amici veneti, visto che siamo in Veneto da te, l'appuntamento di sabato 2 all'Odissea, per quanto mi riguarda quell'orchestra, ed ovviamente domenica 3 al pranzo di Radio Sorriso, mi raccomando, al Teatro Mucchetti. Mi raccomando, 0423 7367, dove trovano Elena tutte le informazioni, dove possono rimanere aggiornati i nostri telespettatori, sulle tue serate, sulle tue iniziative? Ah, guarda, se loro digitano Elena Camarone su internet, su Google esce tutto, tutte le pagine dove trovarmi, tutti i siti, tutte le cose, e quindi basta cliccare Elena Camarone, mi trovate, mi trovate in ogni dove. Perfetto, e che dire, non mi rimane che ringraziarti tanto, per essere stata, come dire, nostra ospite, spero poi di poterti ritrovare prossimamente, anche qua in studio, in presenza con noi. Perfetto, anche perché lo sai che mi piace di più, vero? Eh beh, certo, immagino, immagino, però dai, grazie alla tecnologia, comunque ci siamo potuti vedere, abbiamo fatto questa chiacchierata, grazie mille ancora Elena. Grazie Giovanni, noi ci vediamo domenica, un salutone a tutti i tuoi teleascoltatori. Ciao ragazzi, buona giornata a tutti. Io ringrazio Matteo, per la cura della parte tecnica, di questo collegamento, ve lo ricordo, mi raccomando, 0423 7367, prenotate il pranzo di Radio Sorriso, tantissimi ospiti, si balla bene, si mangia bene, e si ci diverte con gli speaker di Radio Sorriso. Per quanto vi riguarda, l'appuntamento è rinnovata domani, sempre qui alle ore 13, nuova giornata, nuovo ospite, Sorriso TV. Un bacione, ciao!